non c'è il tempo vero perché no non c'è forse non c'è la ok non voglio stare tranquillo libera tutti i gatti rapito usando le chiavi che trovi in giro i gatti liberati ti possono aiutare a trovare timothy attento agli andro i malvagi servi di maniacat usa il potere della voce down per bloccarli ma attento rimarranno ok madonna ma quanto cazzo corre che cacchio è è per almeno se corre si fa la svelta ok questa chiave eccola qua il gatto cos'è il gatto minca 16 ne devo liberare 16 ah è la stessa chiave per tutte bella allora ah no posso andare in giro per la chiave rimane lì ok no che due coglioni immaginavo ok questo sì però il filo di puttana rimangono le chiavi ah no non rimangono quindi ah no che era quell'altra era per un'altra ok ottimo madonna 16 no il cazzo è allora d z no x è vero è meraviglioso tutto questo è meraviglioso tutto questo bella che culo che culo ok allora torniamo di là ma non c'era prima questa non l'ho vista prima io però la chiave la frega però la chiave la toglie ma forse ho detto una cazzata non ce l'avevo nemmeno non ci sto capendo ok una chiave qui praticamente si compaiono no scherzavo no non va bene forse quella lì che c'è di fianco due ce n'è no ok che culo ora prendo adesso l'altra chiave scappo artematica artematica non mi vergognerei a fare un gioco del genere mister dexter ristorante qua dovrebbe esserci sì vediamo sperando che questa sia quella ok perfetto figo che teschietti quando vanno a uno queste cose bella non serve a niente qua però non è una brutta idea ci sono altri giochi che lo fanno allora vediamo come sempre con il labirinto ok giù di qua ok quella parte l'ho fatta qua non c'è niente non c'è nulla non si può tornare ho capito zitta ma madonna l'acqua la cascata cos'è ma che cazzo bello 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 che culo non male che l'ho girato perfetto no non va bene questa chiave a caso vai che culo che culo mi piacerebbe entrare qua ho paura che rompo tutto no non si può entrare ma che bello no no si ma me ne mancano ancora troppe dai madonna l'altro dove era di qua no quella lì che non riuscivo ad aprire non era di vera di quasi era da qualche parte qua alla puttana perfetto qua penso non ce ne sono più quindi mi deve aprire per forza ha liberato di eh puoi aprire il cancello infatti eh puoi aprire il cancello infatti perché se no eh l'area dov'è di qua? si ok madonna io io voglio proprio vedere in quanto in quanto è stato fatto questo gioco cioè io proprio sono curioso per me in un gioco in una giornata l'han fatto cioè guarda le texture in fondo ok ok allora andiamo avanti per non tornare indietro si però dai porca l'ha preso dai vieni qua bastardello porca sempre più complicato sempre più complicato per me secondo me visto che le chiavi spariscono tutte alcune sono diciamo nulle alcune invece aprono quelle che aprono aprono qualsiasi mentre quelle nulle non si apre e vengono annullate perché sennò non può gestire un casino se poi non scompare quella che poi rimane quindi sono chiavi che nulle però se questo esempio va bene se apro sia quella quell'altra è uguale se questa va bene se aprivo l'altra liberavo comunque non sono per me sono tutte ma vedi che porca tipo questa se funziona l'apre se non funziona non apriva nessuna sicuro che è così forza madonna ma che bello l'ha fatto l'animazione della retro dai che ne manca uno se l'apre sì ne manca una dai 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 dov'è l'ultima eccola bella merda merda via via adesso puoi aprire il cancello ok qua? sì come? ecco 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 niente 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 eh non so chi era cazzo era film io non ho mai visto sto cazzo di cartone barra fumetto ok ora si deve ehm andare nel cancello quello la ok vai all'inizio vai di corsa di corsa di corsa con una chiave c'è ancora la chiave vai di corsa si è rincastrata la tizia è comparsa dopo ci faccio così corre vediamo se mi insieme la ritrovo vediamo sì compaiono eccola oh primo invio vediamo vediamo